Amici d'ascolto e visione di Telo Universo, una buona serata e benvenuti al numero 37 di Vista su Golfo di questa stagione televisiva, vi dico anche con un po' di sommo dispiacere, è l'ultimo per quanto riguarda la stagione televisiva 2017-2018, ho il piacere e l'onore di completare questo ciclo di trasmissioni con un sindaco che è sempre rincorso nel corso di questi ultimi mesi, ci siamo rincorsi a vicenda sindaco, però alla fine siamo arrivati alla meta. Do una buona ferata e per questo ringrazio anche visto la sua disponibilità notturna a partecipare a Vista su Golfo all'avvocato, ma soprattutto sindaco del Comune di Itri, l'avvocato Antonio Fargiorgio. Buonasera sindaco e grazie per essere il nostro gradito ospite. Buonasera a voi, come si dice, meglio tardi che mai. Allora, due anni dalla elezione del sindaco Fargiorgio, un personaggio molto conosciuto anche negli ambienti forensi sia della provincia di Latina, è stato per tanti anni membro del Consiglio dell'Ordine, ma anche della provincia del Foro di Cassino, è uno degli avvocati più noti appunto del Basso Lazio, ma soprattutto questa sera è qui nella veste di sindaco di un comune importante nella, diciamo, geografia politico-istituzionale del Sud Pontino. Faremo con lui un bilancio, ma non mi voglio perdere in chiacchiere, ma soprattutto siccome noi mutuiamo anche gli argomenti delle nostre trasmissioni dai fatti di cronaca, sindaco, Giove Pluvio ancora sta facendo, tra virgolette, il buono, nel senso che ogni tanto di pomeriggio arriva il temporale che sta un po' mitigando, però noi dobbiamo fare i conti con una piaga, con una emergenza che quanto prima purtroppo arriverà, quella degli incendi. Lei ha voluto un po' anticipare tutti e per questo motivo questa sera è qui, ha voluto ascoltare, ha voluto anche avviare un filo diretto con i vertici provinciali e locali dei carabinieri forestali, perché Itri lo scorso anno, caro sindaco Agresti, è finito sulle pagine nazionali, perché secondo la Lega Ambiente Laziale, a Itri praticamente erano andati in fumo nel corso dell'estate del 2017 1172 ettari di terreno, pari sindaco al 10% della superficie comunale. Lei naturalmente non ha voluto attendere i tempi, ha voluto soprattutto avviare un tavolo di concertazione e innanzitutto ci dica, lo stato dell'arte qual è per fronteggiare quella che purtroppo sarà un'altra estate calda. Sì, allora intanto per dire noi i conti non è che li stiamo facendo, abbiamo cominciato a farli per tempo. Proprio ieri ho voluto che si istituisse un tavolo presso il nostro comune, tavolo a cui hanno preso parte il colonnello Persi, che è il comandante provinciale dei carabinieri forestali, è stato presente anche il comandante del Niab, il dottor Jansidi, esponenti del parco degli Aurunci, alcune realtà locali perché abbiamo ritenuto che quello degli incendi sia assolutamente un'emergenza, sia uno di quegli argomenti di cui bisogna necessariamente prendere atto e che bisogna affrontare senza fare, come ho detto anche ieri, come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia e fa finta che il problema non c'è. Il problema c'è, è un problema atavico che noi abbiamo cercato sin dall'anno scorso di cominciare ad affrontare con mezzi e uomini diversi e direi eccezionali rispetto al passato, perché non sarà sfuggito e sicuramente a te non sarà sfuggito, caro Saverio, che già l'anno scorso in pieno agosto io vogli istituire un tavolo e già lì io cominciai a reclamare, perché forse è proprio questo il termine corretto, io cominciai a reclamare la presenza di uomini e mezzi militari, di intelligenze investigative, perché questo è un problema che non possiamo risolvere, che minimizzando, dando la colpa a talune categorie di persone, secondo me è un problema che per essere risolto ha bisogno che vengano messe in campo delle intelligenze investigative. Ecco, siamo oggi nel sostituto d'estate, 21 giugno, ci sono ancora i presupposti temporali, sindaco, avvocato Fargiorgio, per arginare una dica a questo fenomeno. Assolutamente, i tempi ci sono ed è per questo che noi già ieri abbiamo avviato questo tavolo, il tavolo si riaggiornerà per definizioni di modalità e questioni operative il 29 giugno alle ore 11, sempre ad Itri, e lì si cominceranno a fare i conti con i numeri, perché metteremo in campo, grazie ad alcune associazioni, ma grazie anche alle forze dell'ordine, una consistente schiera numerica di persone che dovranno presidiare il territorio. Ecco, il territorio che peraltro, sindaco, nessuno lo sa, lo dico, Urbi e Torbi, è uno tra i più vasti della provincia di Latina. Il suo comune si estende su 101 chilometri quadrati, cioè un piccolo stato. Sì, dico sempre così, scherzando anche con i miei colleghi, che Itri è un territorio vasto quanto quello di Formegheta messo insieme, questo fa capire la vastità del territorio che va da un piccolo tratto di costa fino a confine con Esperia e con la sociaria della zona di Campello, quindi un ampio territorio che diventa difficile, perlomeno per le forze esigue del comune, come dicevo l'anno scorso con il prefetto, l'allora prefetto Faloni, poter presidiare, perché in realtà per poter veramente controllare un territorio di fatta portata, noi abbiamo bisogno di un aiuto, ma di un aiuto fattivo, di una collaborazione fattiva. Ecco, lei addirittura lo scorso anno, fin dopo Fargioggio, proprio nel momento, mi ricordo lei aveva in comune i rappresentanti delle forze dell'ordine, infatti lei c'era rimasto pure un po' male, e mentre c'era questo incontro, addirittura c'era un vastissimo incendio, addirittura lei arrivò a sollecitare, all'epoca la prefettura, a Latina c'era il dottor Faloni, l'arrivo dell'esercito, proprio dell'esercito aliano, perché dice qui ci sono menti diaboliche che vanno subito fronteggiate, con mezzi superiori ai nostri. Assolutamente sì, ma io sono convinto che questa è un'emergenza che può essere combattuta soltanto attraverso una sinergia di più forze, cioè una sinergia istituzionale, ma soprattutto voglio dire attraverso la presenza di uomini e mezzi che abbiano anche una funzione per così dire deterrente sul territorio, perché diversamente voglio dire noi abbiamo sette vigili urbani, è impensabile che sette vigili possano presidiare un territorio esteso come tu hai appena riferito, 101 km quadrati, così come con i pur valenti membri della locale stazione Carabinieri non riusciamo a completare un'azione che sia di controllo efficiente su tutto il territorio, di cui la necessità che dai piani alti ci si renda conto che i piani bassi hanno bisogno sicuramente di essere aiutati, di essere tutelati. Per la sua professione che esercita lei comunque ha delle capacità mediatoree riconosciute, il ruolo di due enti suracomunali che si chiamano enti parco regionale di Monterunci e la diciassettesima comunità montana che ha lo stesso nome di Monterunci, quale può essere? Il loro è un ruolo secondo me importantissimo. Io penso, mi perdoni, più importante del comune. Ma assolutamente sì, se non altro perché sono degli enti in qualche modo sovraordinati devono fare questo. La loro mission, la loro vocazione istituzionale è quella, ma ieri al tavolo era presente il direttore del parco di Monterunci, Giorgio De Marchis, che devo dire è molto vicino al nostro territorio, lo ha già dimostrato anche in altri frangenti per quanto riguardava ad esempio il fenomeno del pascolo abusivo, per il quale pure ci siamo spesi tanto in questi ultimi due anni. Ma anche la comunità montana, la diciassettesima comunità montana, è molto vicina, ci sono interazioni, interlocuzioni, non voglio dire quotidiane, ma sicuramente settimanali, anche loro hanno detto che faranno avere il loro apporto, ripeto, questa è una battaglia che si può affrontare, si può combattere e si può vincere soltanto se si è tutti quanti uniti e se tutti condividiamo lo stesso scopo. L'altro comune che ha una superficie importante, che peraltro ricata nel parco regionale Monterugge è Formi, in questo momento c'è una vacazio politica, ci sono le elezioni, c'è il ballottaggio domenica, l'è mancato il supporto anche di un comune importante come Formi in questa azione, almeno in questo momento, Avvocato Fergiorgio. Ma sicuramente sì, indipendentemente da quelle che possono essere le vicende politico-amministrative, io sono dell'avviso che ogni città, ogni paese merita una propria guida, una propria direzione di tipo strettamente politico-amministrativo, perché con chi è abituato a vivere il territorio, con chi è abituato a stare sul territorio, si possono condividere quelle che sono le criticità di un territorio, di un comprensorio. È evidente che l'avvocazio di questi ultimi mesi non ha fatto bene, non dico soltanto a Formi, ma all'intero golfo, perché viene a mancare un elemento, un punto di riferimento che è sicuramente importante. Eh certo, senta, io non la voglio trascinare in una fascia di polemica politica, proprio ieri due consiglieri regionali dei 5 Stelle hanno chiesto al Presidente della Commissione Tutela del Territorio, l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, l'audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, perché oggigiorno, al 21 di giugno, la Regione non ancora, diciamo, non avrebbe, voglio essere garantista, non avrebbe ancora approvato il LAIB, che è il documento operativo per le attività antigenio boschivo. E' vero quello che dicono i 5 Stelle, sindaco? Ma io al momento non ho notizie, non ho notizie certe in questo senso, può darsi pure che magari i documenti siano stati già predisposti ed approvati e poi nella trafila, diciamo, che viene fatta per essere veicolata presso le amministrazioni, poi qualche cosa può perdersi. Io dico però che ciascun comune ha il dovere, ma lo dico sotto il profilo etiquote che è istituzionale, di affrontare il problema anche coinvolgendo le proprie risorse. Lo sta dicendo di non aspettare, di muovere. Assolutamente, non bisogna aspettare, ecco perché, come dicevamo prima, ho voluto anticipare i tempi. Io intanto comincio a mettere in campo quelle che sono le mie competenze, le mie consapevolezze, le mie forze, dopodiché mi auspico e mi auguro che venga dalla Regione un aiuto, però non è che possiamo stare a aspettare che ci venga calato qualcosa da un altro. La manna non scende dal cielo, ce lo insegna anche la Bibbia. Allora, senta, lei è venuta qui naturalmente dopo questa parentesi iniziale dedicata a questo argomento anche per facciare un bilancio, no? È giusto che lo faccia a distanza di due anni dalla sua, diciamo anche per certi versi, storica e innovativa elezione nel giugno del 2016. Allora, innanzitutto che bilancio il sindaco, l'avvocato, l'uomo Fargiorgio può appunto redigere dopo due anni di azione amministrativa di un comune che lei non è piageria, sta cercando di sdoganare, sta cercando di rendere meno di serie B e di portare sulla stessa falsarica, anche sotto l'aspetto politico, istituzionale, dei comuni cosiddetti rivieraschi, cioè Formia, Gaeta e Mintura. Ma sicuramente allora, l'esperienza che ho fatto io la reputo positiva, ma sotto diversi aspetti, dico sotto un profilo anche personale prima ancora che istituzionale, perché sicuramente come ho detto varie volte, riuscire ad essere il sindaco della città in cui si è nati, in cui si è vissuto e in cui si è anche cresciuti professionalmente, non appari come soddisfazione. Chiaramente mi rendo conto che avevo ereditato una situazione assolutamente non facile. C'è stato anche il commissariamento. C'è stato un commissariamento di circa un anno. Questa è la migliore cartellina che Marco Stanzione poteva darle, il castello medievale che peraltro il comune ha ristrutturato, sta gestendo, è un paese bellissimo. E proprio per questo dicevo, noi abbiamo avuto come obiettivo, ci siamo posti come obiettivo programmatico, proprio quello di cercare, come dicevi perfettamente tu, di sdoganare ITRI, di far sì che il paesino che qualcuno ha nella propria concezione come paesino dell'entroterra in realtà diventi quello che è poi nella realtà dei fatti. Perché noi pensiamo di avere un nostro ambito territoriale che ha diverse eccellenze, sotto diversi profili, culturali, storici, enogastronomici. Noi abbiamo bisogno, naturalistici chiaramente, noi abbiamo bisogno di implementare questo senso di appartenenza, dico, anche a quelle che sono le nostre bellezze. Perché mi rendo conto, anche girando i vari comuni della zona, sia per ragioni professionali che per ragioni istituzionali, che forse molto spesso noi siamo portati ad essere molto critici nei confronti del nostro comune e della nostra cittadina. Però se mi giro intorno, io penso che il livello di pulizia che ha la cittadina di Iti lo vedo in poche altre città. Siete stati, peraltro, come comune, i primi. Siamo stati i primi, i primi a chiedere la corte differenziata. Posso dire una cosa, che il 27 giugno, la do questa notizia, per quanto ci era stato detto di tenerla, per così dire, un po' riservata e segretata. Però il 27 giugno a Roma siamo stati invitati dalla Lega Ambiente perché nell'ambito del programma che premia i cosiddetti comuni ricicloni, Iti avrà un premio. Io non voglio anticipare oltre quella che è l'organizzazione, però mi farà piacere poi condividere con voi questa cosa. Ed è il secondo anno consecutivo, però questo è l'anno a cui teniamo in modo particolare perché fa riferimento a 2017, che è stato totalmente a conduzione della nostra squadra di governo amministrativa. Iti, si parla di uno dei comuni più laboriosi. Leggendo le classifiche a Iti c'è, in proporzione anche alla sua popolazione residente, la ricchezza più importante del comprensorio. Sede Comune, i vostri concittadini sono cittadini che risparmiano o che lavorano? Ma i nostri sono cittadini che soprattutto lavorano. Certo, c'è questa... Nonostante la crisi, eh? Nonostante la crisi. Poi c'è questa, voglio dire, un po' questa leggenda per cui i cittadini di Iti hanno sempre in qualche modo arrotondato perché ognuno di loro ha il famoso pezzettino di terreno che coltiva e che ha portato, voglio dire, anche ad implementare quella grande risorsa che l'oliva, che oggi è commercializzata come... Il vostro oro giallo. Sì, l'oliva e l'olio itrano, soprattutto quello che viene mulito nel periodo prenatalizio che ha qualità organolettica assolutamente di eccellenza, rilevanti. Vedo che hai imparato anche a fare l'acronomo, oltre che l'avvocato, va bene. Ma io sono proprietario di un appensamento di terreno che insieme a mio fratello portiamo avanti, che è stato un lascio, un'eredità dei nostri genitori e che quindi abbiamo voluto fortemente non abbandonare. Quindi diciamo c'è questa capacità, questa volontà di portare avanti anche, adesso al di là delle battute, un passato importante, anche nobile, no? Assolutamente, ma io dico sempre che in realtà non ci si può mai dimenticare da dove si è partiti, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Ecco, se noi siamo consapevoli di quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, certamente se noi mettiamo a confronto l'esperienza che può essere quella di Iti con un comune rivierasco, come può essere Gaeta, Formia, piuttosto che Spellonga, o andando più a nord, San Felice, Ciccea e quant'altro. Noi non godiamo di quella PIL in prima battuta, no? Prima faccio non godiamo di quella PIL, però abbiamo tante altre risorse e questo sull'agricoltura. L'agricoltura può essere soprattutto una voce importante, già lo è nel vostro PIL, però ci sono tante cose che si stanno muovendo di cui parlo tra qualche istante, sindaco Fargeorge. Naturalmente dobbiamo parlare, si è parlato di alcune luci, ma anche di alcune ombre. Un volus politico che le ha fatto male nel corso di questi due anni è l'allontanamento prima, poi lei ha dovuto deliberare la revoca del suo vice sindaco, nonché assessora alla cultura, la professoressa Paola Soscia. Qui di mezzo c'è ancora la cultura, c'è il Castello Madiovale che la professoressa Soscia avrebbe voluto far gestire attraverso un bando pubblico. È una cosa che le ha creato una ferita sotto l'aspetto anche umano, sindaco. Ma sicuramente sia inutile nasconderlo, anche perché la professoressa Soscia l'ho voluta fortemente io nella squadra. Paola, io la chiamo Paola perché dire professoressa Soscia mi sembra marcare un solco a distanza che a livello personale non penso ci sia tra me Paola. Paola sa quanta è la mia considerazione nei suoi confronti, io ho sempre detto che l'unica persona che si potesse occupare di cultura a livello della squadra amministrativa fosse soltanto Paola. Dall'alto anche del suo cognome peraltro. Peraltro viene da una famiglia che sicuramente è impegnatissima nel mondo della cultura, ma Paola sa, io ho sempre detto, ma anche quando per ragioni di equilibri politici si era deciso di revocare la delega assessorile, io avevo sempre detto, e lei questo me ne potrebbe dare atto, me ne dà sicuramente atto, che la delega alla cultura sarebbe comunque rimasta lei con ampi poteri di gestione. E questa delega ancora lei non l'ha data ancora, quindi ce l'ho ancora lei. la delega ce l'ho ancora io e questo dovrebbe far pensare anche ad alcuni finti soloni che a volte albergano le discussioni su Facebook, che pensavano a chissà quale tipo di disegno del sindaco, l'ho trattenuta io, non l'ho data a terzi, non l'ho data ad altri proprio perché sono convinto ed ero convinto che la delega alla cultura avesse una titolare quasi naturale, venuta meno questa titolare, io non ritengo di dover al momento far spendere questa delega ad altri, l'ho io e mi sto occupando penso anche in maniera abbastanza attiva. Tra poco ne parlo perché lei ha anche presenziato una conferenza stampa dove probabilmente ci doveva essere la professoressa social, ma c'era lei perché in questo momento sta facendo un po' le faccende funzioni anche per quanto riguarda la cultura. Ma è possibile che si può mandare tutto all'aria, come si dice in gergo, solo per la gestione di un bene importante, è la vostra bomboniera che si chiama il Castello Medievale e si va a demolire quanto si è costruito all'interno di un progetto politico anche elettorale, sindaco? Secondo me non c'è motivo per demolire un progetto solo per una questione del genere, però mi rendo conto che alcune posizioni critiche anche un po' distanti possano essere state cavalcate, avallate da qualcuno che aveva interesse a marcare certi tipi di differenza, a tracciare un solco nella squadra di governo. E quando dico qualcuno non mi riferisco assolutamente a Paola Soscia, questo sia chiaro, sia ben inteso. Io penso che arriva poi il momento in cui determinate situazioni, determinate posizioni anche di tipo personale debbano essere superate nell'ottica di quello che deve essere il bene comune, di quella che è poi la gestione della cosa pubblica, alla quale penso che tutti quanti siamo legati. Io in un messaggio con Paola che ci eravamo scambiati avevamo detto che avendo tutti e due a cuore il bene di Itri, sicuramente le nostre strade erano destinate in qualche modo ad intrecciarsi. Mi risponda, ci sono ancora i presupposti politico-amministrativi anche personale per ricucire questo strappo. Io, tu sei un ottimo cronista, sai benissimo, sei un esperto conoscitore di cose politiche. Nella politica, nell'amministrazione, mai dire mai, tutto è sempre possibile. I suoi redattori, sindaco, l'accusano di un palese conflitto di interesse, sempre per quanto riguarda, questa è l'occasione per la quale io l'avevo anche invitata più di una volta a vedere i nostri studi, conflitto di interesse per quanto riguarda la gestione del museo, del brigandaggio e del castello medievale. Perché dico questo? Lo dico anche per chi ignara la questione, la materia. Perché al momento la gestione della Proloco, alcuni dirigenti, ex dirigenti della Proloco, fanno parte della sua amministrazione. Mi risponda, Sindaco. Allora, io su questo penso pure si siano alimentate le gente metropolitane. Allora, sicuramente era candidato con me l'ingegnere Mattia Punzo, che era presidente della Proloco, ma lui si è autosospeso in campagna elettorale, dopodiché si è dimesso. Un assessore esterno, che è una mia diretta emanazione, che il dottor Giovanni Colucci, attuale assessore al bilancio della programmazione economica e dell'innovazione tecnologica, era il tesoriere della Proloco, ma si è dimesso anche lui. Non ci sono al momento delle situazioni di incompatibilità. Intanto io ho voluto sempre chiarire, e di fatto l'ho anche ospitato apertamente, la stessa minoranza anche nel corso delle varie sessioni dell'assiste comunale, di dire quando volete sollevare una questione di conflitto di interessi nei confronti del sindaco, io sono sempre pronto. Nei miei confronti personalmente non possono dire nulla, perché non ho di questi conflitti. Lei è tranquillo, diciamo, su questa questione. Ma ci mancherebbe altro. Io non ho conflitti, ma dirò di più. Siccome abbiamo detto di fare un tracciato dell'esperienza a due anni, il vulnus vero per me è stato il fatto che la mia elezione non si è stata convalidata all'unanimità dei membri del Consiglio Comunale, caso unico nella storia della nostra cittadina, perché due esponenti di una certa parte politica avevano ritenuto che io avessi un contenzioso in essere con il Comune di Iti, cosa che non era successa, perché in realtà il mio socio di studio aveva a suo tempo difeso il Comune di Iti e l'aveva difeso per atto molto più che greggiamente, facendo risparmiare circa due milioni di euro in un contenzioso con l'ECS, con Sozio Acquedotti Uniti di Auronci. Io dissi in quell'occasione, guardate che non c'è conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi dovrebbe essere all'incontrario. Se io avessi tutelato le parti di qualcuno nei confronti del Comune di Iti, cosa che ho sempre fatto in maniera tale da non avere, ma poi avevo detto, trovatemi un solo atto in cui c'è una firma che rega la firma dell'Avvocato Antonio Fargiorgio, che è prodotto contro il Comune di Iti. Loro non è che non l'hanno cercato, caro Saverio, loro l'hanno cercato, ma non l'hanno trovato, perché io su alcuni aspetti sono sempre meno perfetto. Sì, ma dobbiamo andare oltre, perché il tempo a nostra disposizione è sempre, diciamo, esiguo. Prima di chiudere bellezza con questa scoperta archeologica che è finita, lo dico subito, su una rivista di archeologia americana, dal fuoco parliamo di acqua, non siamo a lezione di filosofia, lei sta affrontando un'altra emergenza, igienico-sanitaria, lo sta facendo da tempo, sulla questione dei pozzi, che sono dislocati a macchia di lopardo sul territorio itrano, che inizialmente autorizzate la provincia per scopi rigui, ora la provincia vuole, tra virgolette, chiudere. Lei teme anche problemi di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico. Lei ha avviato un filo diretto sia con la professoressa, la dottoressa Nicoletta Valle, che è la dirigente del settore ambiente della provincia, che con la regione Lazio. Qual è, ce lo dica Urbi e Torbi, lo stato di queste trattative? A questo beneficio anche dei suoi concittadini? Assolutamente sì, anche perché pure su questo argomento poi si dice di tutto e di più. Io ho subito affrontato questo problema evidenziandone l'aspetto di ordine pubblico, perché abbiamo voluto che si facesse un consiglio comunale ad hoc proprio sulla questione dei pozzi, perché mi rendo conto che il problema non è soltanto dei 5, perché sono 5 titolari dei pozzi, per così dire, incriminati, e metto incriminati tra virgolette. Ma in realtà dietro c'è un'utenza fatta di circa 2.000 persone, tra cui anche alcune aziende agricole di una certa importanza e oltre seconde case per turisti. Io ho subito affrontato il problema, sono stato dalla dottoressa Nicoletta Valle in provincia, non ho voluto fermarmi lì e nella mia interazione tipo istituzionale sono andato fino in regione dove ho parlato con l'ingegnere Marco Lasagna, che allora era il responsabile del relativo settore per la regione Lazio. E devo dire che ho trovato ovunque porte aperte, perché tutti si sono resi conto che la distonia, diciamo la discasia del sistema era che, come chiaramente, perfettamente hai detto tu Saverio, mentre le autorizzazioni erano state date per uso agricolo, ma per uso personale il problema è stato proprio quello che, cioè nelle singole autorizzazioni non era prevista la cessione a terzi dell'acqua. Però, dicevamo prima, Idri è un comune di 101 km2, questi pozzi poi in realtà sono serviti per fornire un servizio essenziale a una parte della popolazione che è distante dove non arriva la condotta pubblica. Dove non arriva la condotta pubblica, peraltro ci tengo a precisare l'acqua che viene erogata non è un'acqua potabile, e questo lo dico perché alcuni anche oppositori politici hanno paventato l'idea di un subvento di acqua latina, secondo me poi quando si parla bisogna parlare con cognizioni di causa. Lato 4, prima ancora che acqua latina, può intervenire soltanto se l'acqua è potabile. Se l'acqua non è potabile non possiamo chiaramente investire della problematica, ma della problematica, diciamo, una società che non può entrare a far parte di questo tipo di discorso. C'è, voglio dire, sempre ad appannaggio di tutti i radioascoltatori, i telescoltatori, i spettatori, soprattutto di quelli di Idri, che i singoli titolari dei pozzi hanno prodotto un ricorso al TAR, dove hanno chiesto, non hanno chiesto la sospensione correttamente, ma hanno chiesto l'annullamento per una serie di motivi di questa comunicazione, di quella che io definisco una comunicazione della provincia. Io, se la debbo guardare come avvocato, ho i miei dubbi che quello fosse un atto definitivo che potesse essere impugnato. Io l'ho letta, era una sorta di diffida. Era solo una diffida, però mi rendo conto che a volte un'iniziativa giudiziaria va anche oltre quello che è il suo portato. Quindi serve anche a creare un clima di serenità sociale, perché chiaramente di fronte a un ricorso al TAR, quindi una volta che si è investito il giudice, qualunque autorità aspetterà prima la decisione del Tribunale, prima di poter procedere con ulteriori passi. Ulteriori passi, però, che voglio dirlo, a me era stato detto che nell'immediato non sarebbero stati fatti, perché soprattutto la Regione aveva dato ampia disponibilità per creare altre forme di sinergia, magari un consorzio di tipo pubblico, un misto pubblico privato, per la gestione del corso. Sì, ma io devo chiudere, mi fanno scena, però le voglio dare un minuto veramente. Parliamo di bellezza, perché ITRE è finita sulle riviste specializzate americane per questo importantissimo rivedimento archeologico in una qualità San Cristoforo. Siamo alle spalle del centro abitato. Ecco, quello che vedete, amici degli spettatori, è un tempio del V secolo avanti Cristo, un unicum eccezionale, probabilmente uno dei pochi che si trovano nel Lazio, questa è la conferenza stava di presentazione, dedicato al dio a Ercole. Nasce da qui un rilancio vero, definitivo, sotto l'aspetto turistico e anche culturale di ITRE, il sindaco Fargiorgio, veramente vi chiedo di fare ricorso alle sue capacità, alle sue dati di sintesi. Sì, io dico assolutamente sì, questa è una scoperta che... Queste sono cose veramente belle. Questa è la scalinata di accesso a quello che noi riteniamo, che gli esperti dicono, ritengono sia un tempio che sarà sicuramente lì, da qualche parte che si cercherà di rimanere. Queste sono delle iscrizioni su pietra, qualcuna di queste la porteremo in luogo sicuro, perché altrimenti gli agenti atmosferici stanno creando qualche problema di disintegrazione. Questa è una iscrizione in modo particolare, molto significativa, perché è composta di cinque righe. Allora sì, brevissimamente, l'ho detto anche in conferenza stampa, secondo me questa è una scoperta che, oltre a riscrivere la storia di ITRE, perché noi siamo stati abituati a pensare che ITRE sia nata da una stazio romana, quindi lungo la via Appia, ma in realtà questo è un insediamento del IV secolo a.C., quindi è un insediamento esistente prima ancora che si realizzasse la via Appia e soprattutto era un luogo fiorente di scambi commerciali, perché abbiamo tracce che dimostrano l'esistenza di scambi commerciali, le vie del sale, della transumanza, quindi del latte. Dall'attuale Cioceria e dall'attuale Abruzzo? Dall'attuale Cioceria e dall'Abruzzo si incontravano, detto l'altra volta magicamente, ad ITRE, ITRE faceva da sponda dei comuni riveraschi che portavano il sale e lì c'era questo grosso problema. Due cose, veramente in sintesi, il sindaco personalmente si sta impegnando perché i proprietari dell'area la cedono al comune gratuitamente, il sindaco, lei ha fatto una promessa, ce la rinnovi, qui c'è la volontà di realizzare un parco archeologico. Assolutamente, io l'ho già detto in conferenza stampa, l'ho detto anche ai tuoi colleghi che mi hanno nei giorni scorsi avvicinato, sicuramente intanto va ringraziata la famiglia Ialongo che dimostrando una grande sensibilità di tipo culturale, ma dico anche un grande attaccamento alla città, ha deciso di donare gratuitamente l'intero sito all'amministrazione. Ed è questo il primo passo per poter poi accedere ai finanziamenti e alla realizzazione di quella che Marisa De Spagnolis, Rosa Corretti e tutta la squadra di volontari che stanno lavorando allacremente sul posto si augurano. Bene, io termino qui, avrei voluto avere il telefono ma purtroppo, vista l'ora, non lo abbiamo raggiunto. Il commissario straordinario del Comune di Formia, Maurizio Valianti, che avrebbe voluto salutare attraverso il mezzo televisivo la città, che lascerà nelle prossime ore, soprattutto dopo il ballottaggio di domenica, sarà comunque per un'occasione anche del passaggio delle consegne, un'occasione anche da parte nostra, sotto l'aspetto giornalistico, per tracciare un bilancio. Sindaco, io la ringrazio, naturalmente voi, lei dà appuntamento ai turisti per il 21 luglio, per la festività della Madonna della Civita, non starete sotto l'universo domenica mattina dalle 9 circa per un'altra festività importante, padronale a Formia, la festività di San Giovanni che la nostra emittente, grazie anche al patrocinio del Comune di Formia, trasmetterà quasi interamente dalle 9 fino alla conclusione della processione a mare, intorno alle 14 e 15 di domenica 24 giugno. Sindaco, si voterà pure, quindi la nostra televisione, la nostra diretta sarà anche un'espediente per quanto riguarda l'ordine pubblico. Io la ringrazio, grazie per la sua partecipazione, abbiamo chiuso in bellezza questo ciclo di trasmissione di quest'anno di vista sul Golfo che, Sindaco, la potrà rivedere anche voi degli spettatori, sabato mattina intorno alle 10 e mezza sul Teleuniverso, invece non dico questa sera, ci vediamo giovedì prossimo, ma ci vedremo sicuramente a settembre. Grazie ancora all'Avvocato, Sindaco di Inti, Antonio Fargiorcio, grazie anche a Marco Stanzioni che ha curato la regia e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.